Con più di 9 milioni di euro finanziati dal Ministero per lo Sviluppo Economico nell'ambito della legge 266 del 97, il Comune di Napoli ha presentato il nuovo programma di iniziative per promuovere lo sviluppo imprenditoriale nelle aree di degrado urbano. Il piano, illustrato dall'assessore Marco Esposito, prevede azioni di sostegno ed incentivi fiscali destinati a piccole e micro imprese di 24 quartieri cittadini, con l'obiettivo di favorire la creazione di reti che siano molto più competitive ed in grado di rilanciare l'economia locale. Mettersi insieme, fare insieme le cose, per esempio nei rapporti con le banche, per l'internazionalizzazione, è un processo virtuoso che a nostra parere favorirà la crescita complessiva del tessuto produttivo della città. Sta già accadendo nel nord d'Italia dove le reti d'impresa si vanno sviluppando rapidamente, il mezzogiorno è un po' indietro, noi siamo la prima città a dare un finanziamento proprio per contribuire alla crescita di questo nuovo modo di fare impresa insieme. Il programma 2011 prevede un contributo di 10.000 euro per ogni singola impresa che scelga di aderire ad una rete ed incentivi fino a 60.000 euro per favorire la delocalizzazione di imprese artigiane insediate nella nuova zona a traffico limitato e più soggette a ricadute negative. Tra gli interventi previsti, consultabili sul sito web istituzionale www.comune.napoli.it, anche l'utilizzo di navette ecologiche per il trasporto di turisti nella ZTL, la realizzazione di infrastrutture wireless in alcuni quartieri periferici e la valorizzazione degli incubatori di impresa già avviati nell'area nord ed est della città.